Woldetense Palleggio arresto, tiro azione molto pulita Nell'angolo liberato al tiro Woldetense, mette anche questa 5 consecutive per lui Ancora Woldetense Un fattore anche sotto le planche E poi subisce il pallo Che ritocca il pallone E lo porta via E poi riceve la palla di ritocco Per andare a segnare il lay-up Altra grande giocata E Thomas Woldetense Che butta fuori per Woldetense Che ha tempo per sistemare i piedi Che ha tempo per sistemare i piedi E poi... Che ha tempo per sistemare i piedi Geniale Che ha tempo per sistemare i piedi Che conosco per sistemare i piedi Cheiede le piastre E ho Tolle Che bello Che appoggialatori Che è il tutto Che è il Verantwortung Che ha tempo la Grazie.